153 grammi di zucchero e 75 grammi di acqua prendiamo la padella mettiamo lo zucchero e l'acqua accendiamo aspettiamo che si sciogli tutto lo zucchero quando si sciogli lo zucchero lasciamo cuocere ritardo intanto lo muoviamo vediamo che si sta rapprendendo abbiamo tenuto nella nostra colorazione mettiamo un bicchiere d'acqua mettiamo dentro fate attenzione e lo scaldiamo così il caramello rimane liscio non si è densa non si è densa si è densa che si è densa una volta affreddato prendiamo un contenitore e mettiamo dentro, dureranno qualche mese come on